Devo cambiarlo, devo modificare il piano superiore, voglio alleggerirlo, parto sverriciando il piano superiore E ora devo pulire bene bene la superficie, ammoniaca, un bicchiere, acqua calda, pinze, contenitore per mettere le maniglie una volta tolte Bisogna essere molto precisi e ordinati, faccio già che allargare il buco con l'ipomello Utilizzerò il fleur de sel, un azzurro chiaro, delicato, uso l'Elisabeth, un pennello molto molto morbido Per donare una leggera filettatura, utilizzo cotton, il mio bianco caldo Il decapè lo faccio con la mia super levigatrice Questo piano a legno grezzo, non lo voglio lasciare così nudo e crudo E nulla di meglio che un bellissimo transfer con di fiori di magnolia Su un profumato cassettone come questo non potiamo che mettere La nostra fantastica c'era Jasmine, torna a prendere vita Il giusto pomello come sempre fa la differenza, guardate che meraviglia Al prossimo restyling